dal 16 al 20 giugno cosa fate venite con noi abbiamo deciso oggi di organizzare il campus sugli obiettivi a bergamo e saranno cinque giorni straordinari avere un obiettivo e saperlo raggiungere avere un obiettivo e vederlo allontanarsi cosa fa la differenza quello che sperimenterete in questo campus in questo laboratorio in questo percorso di miglioramento è proprio allineare tutte le particelle sia quelle esterne a noi ma anche quelle interne a noi quando ci sono quelle vocine quegli stop che ci fanno vacillare tentennare o addirittura di cui nemmeno ci accorgiamo ma abbiamo già deragliato e ce ne rendiamo conto quando è troppo tardi ecco quelle vocine quando noi impareremo a giocarci a trasformarle addirittura nostro vantaggio impareremo a comprendere che diventano una forza una risorsa per arrivare in maniera leggera allineata ribadisco esattamente dove voi volete quindi vi aspettiamo dal 16 al 20 giugno ma sono solo tre settimane come faccio a organizzarmi ragazzi in questo anno davvero stravolgente abbiamo imparato che siamo molto più elastici di quello che pensavamo di essere quindi siamo pronti all'avventura siamo pronti a rimetterci in strada finalmente possiamo abbracciarvi vedervi di presenza ridere giocare con voi ma soprattutto crescere insieme e non è scontato e saranno veramente cinque giorni una vacanza intelligente che ci porterà più in alto e con più strumenti verso dove vogliamo andare e insieme più facile lo sapete no vi aspettiamo trovate tutte le informazioni qui sotto dai è morbido grazie a tutti Grazie a tutti.